classica acquetta del lollo addio cosa si mangia? non so se basta più che altro io confronto la tua faccia siamo vicino al costumio ciao ciao Stefano, qual è il game plan della giornata? game plan della giornata adesso andiamo alle grotte di Saturno di Postumio adesso sono venuti al castello di? di Presamo di Presamo poi grotte poi andiamo a Lubiano nel pomeriggio però forse è più vicino vi diremo vi sapremo dire più avanti grazie a tutti grazie a tutti Musica Che voto dai? Le grotte di Postumia? Da 1 a 10? 9 tutto 9? 1 per la guida che bisogna toglierla Per forza Perfetto Ti ringrazio per la tua opinione Non c'è di che Musica 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 Grazie a tutti. E' stanca? Grazie a tutti. 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 Siamo pronti? Occidentale.